Sarà rinnovata domani, domenica 28 maggio, la processione del voto, il secondo evento religioso più sentito dai sassaresi, dopo la farà dalle 14 agosto. La devozione nei confronti della Madonna delle Grazie, copatrona della città, attira ogni anno decine di migliaia di fedeli che attendono il passaggio dell'antico simulacro che attraversa il centro cittadino. Al termine della Messa delle 18, dal Duomo di San Nicola partirà il corteo, che come da tradizione comprenderà tutti i gremi e una rappresentanza della municipalità, con il sindaco e la giunta comunale. La processione sarà guidata dall'arcivescovo, affiancato dal capitolo turritano e dai fratti minori che custodiscono il santuario di San Pietro di Silchi. Qui, nella piazza davanti alla chiesa, è prevista la conclusione del rito, con la recita della preghiera alla Madonna delle Grazie. La statuetta è infatti ricollocata nella nicchia dell'altare maggiore, dopo che sabato pomeriggio viene traslata in Duomo dalla polizia locale. Durante la processione sono invece i vigili del fuoco a portare sulle spalle il simulacro. Durante l'ultima guerra mondiale, nel 1943, l'allora arcivescovo Arcangelo Mazzotti fece un voto alla Madonna delle Grazie, dopo che una bomba sganciata dagli alleati, allora ancora in guerra contro l'Italia, cadde nei pressi della stazione ferroviaria. L'alto prelato promise, con voto solenne, che ogni anno si sarebbe svolta una processione dal Duomo alla chiesa di San Pietro per onorare la promessa fatta dalla Madonna. Gli aerei militari che avevano ricevuto l'ordine di bombardare Sassari non riuscirono a farlo e la città fu così risparmiata. Da allora, nell'ultima domenica di maggio, il voto alla Vergine delle Grazie viene rinnovato con una grande partecipazione di fedeli.